Questo fine settimana festeggiamo il trentennale della riserva naturale Palude Brabbia e i vent'anni di gestione che con Lipo e provincia di Varese facciamo di questa riserva. Si comincia venerdì con un convegno qui a Villare Calcati in cui faremo un po' il punto della situazione sullo stato di conservazione delle zone umide italiane e fauna, flora e animali che le popolano. E poi domenica una grande festa in Palude, a Inarzo, in cui ci saranno attività per i bambini, visite guidate e soprattutto una bellissima liberazione di rapaci curati dai nostri centri e poi rimessi in libertà.